Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla montata al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, uova, sale, vanillina, caffè solubile, lievito per dolci, burro ammorbidito, caffè ristretto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Abbiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il burro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 5. Prendiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'uovo e il pizzico di sale. E azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. 5. Prendiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il caffè solubile. La farina. la vanillina. Il caffè ristretto. e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in una sacca a poche. Rivestiamo una teglia con carta da forno e formiamo i biscotti che andremo ad adagiare sulla teglia. Una volta formati i biscotti li cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. I biscotti sono cotti. Lasciamoli intiepitire prima di servirli. Biscotti di frolla montata al caffè. Grazie e alla prossima ricetta. Biscotti di frolla montata al caffè.